Per il secondo weekend di aprile Nordicuolchi Valcerina e Cammini Divini propone nuovamente un duplice appuntamento. Sabato 13 aprile infatti saremo a Crea insieme al gruppo Lions della Valcerina in collaborazione con la Proloco di Ponzano organizziamo un tour che ha un duplice scopo, uno di far scoprire le bellezze naturalistiche, paesaggistiche, storiche e religiose della zona la seconda è di fare una raccolta fondi proprio per recuperare il patrimonio delle cappelle del percorso storico di Crea è una camminata che parte dal Proloco di Ponzano, scende giù verso Forneglio e poi dopo essere passata a Salabue e poi ritorna su verso Crea ci sarà per chi lo desidera la possibilità di aggregarsi direttamente presso il santuario di Crea per chi non avesse la possibilità di fare tutto il giro a piedi faremo il percorso devozionale e saliremo fino alla cappella del Paradiso. Dopodiché inizierà il ritorno di nuovo verso Ponzano, prima dell'arrivo faremo pausa presso l'azienda agricola di Nazare Franco per una degustazione di vini locali, passando dal Monte Luveto che è una delle località con uno dei panorami più belli della zona. A fine giro torneremo quindi al Proloco di Ponzano dove ci sarà la possibilità di pranzare e anche qui chiuderemo la giornata dopo pranzo. Invece domenica 14 ci spostiamo nuovamente all'Astigiano precisamente a Montiglio per la giornata il Romanico infatti domenica 14 in tutte le zone dell'Astigiano si organizzano l'escursione per valorizzare il patrimonio delle chiese romanniche presenti sul territorio. Nella fattispecie noi partiremo dal capoluogo e andremo a visitare la chiesa di San Lorenzo per poi esportarci verso Scandeluzza dove è presente un'altra chiesa romanica e poi ritornare verso Montiglio attraversando il centro storico e passando dal castello per ritornare al punto di partenza e quindi chiudere questo weekend di escursioni naturalistiche.